Il 15 settembre saranno trascorsi due anni dalla tragica alluvione che ha sconvolto il territorio di Cantiano nel 2022, due anni in cui Cantiano è ripartita ma c'è ancora tanto da fare, è stato prorogato lo stato di emergenza, però tanto manca e anche per questo avete invitato il Presidente della Regione Marche Acquaroli a confrontarvi sui prossimi passi. Sì esatto, una fotografia oggettiva di quello che è accaduto in questi due anni con la consapevolezza che il Paese oggi è saldamente in piedi, è ripartito grazie alla tenacia di chi ci ha creduto ma con tante cose che ancora restano da fare per quanto riguarda la messa a terra dei ristori e soprattutto la sistemazione del patrimonio pubblico così come la messa in sicurezza del territorio. Quindi noi abbiamo dei danni milionari, oltre 50 milioni di euro sono ancora i danni rimasti tali da due anni a questa parte quindi rispetto ai quali chiederemo un'accelerazione sia in termini di progetto che di interventi e di lavori. Sul tema ristori invece? Siamo nell'ordine del 20% circa di quanto servirebbe rispetto alle perizie che hanno fatto cittadini e d'impresa con un'anomalia importante che abbiamo segnalato, oltre il 60% degli edifici sono rimasti fuori per vizi di forma e quindi ecco io ho la preoccupazione che intere vie del Paese possano rimanere tali se non si mette mano a dei correttivi normativi che hanno però dei risvolti sostanziali in termini appunto di possibilità di accesso ai ristori.